Ben ritrovati gentili telespedatori, è l'edizione del Padova Aerovigo del nostro telegiornale di Prima Frina. In apertura subito parliamo di lavoro nero, c'è stata un'operazione da parte di Più Forze, proprio all'USIA, dove c'è stato anche un intervento proprio per un dipendente che non era in regola. C'è un imprenditore, un tretottenne, che è finito nei guai. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura del telegiornale. I controlli sul lavoro nero in agricoltura hanno raggiunto anche gli orti di Lusia. In un'azienda agricola, infatti, sono stati trovati all'opera nei campi due lavoratori. Uno era regolare, l'altro di origine marocchina, invece, non solo era sprovvisto di contratto, ma non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi in Italia. A suo carico, infatti, pendeva un ordine di espulsione messo dal questore di Ragusa il 17 settembre scorso. Il blitz è stato condotto dalla tax force composta dagli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Rovigo, dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato, guidati dal comandante provinciale Gianfranco Munari e dai carabinieri della Compagnia di Rovigo agli ordini del Maggiore Salvatore Gibilisco. Inizialmente, il lavoratore marocchino ha fornito un nome falso, contenuto anche in alcune carte che ha mostrato durante l'identificazione, cercando così di trarre in inganno i carabinieri della stazione di Lendinara che stavano operando e che però sono riusciti ben presto a risalire la sua vera identità, provvedendo quindi a denunciarlo, oltre che per la violazione delle norme sulla immigrazione, anche per aver fornito false generalità. Non è andata meglio al proprietario dell'azienda, un tra i tottenne del posto, a FM e le sue iniziali, che è stato denunciato dai militari per sfruttamento di un manodopera clandestina. A questo si sommano poi le contestazioni e le relative sanzioni per il lavoratore impiegato senza regolare contratto. Si allunga quindi la striscia di aziende agricole polesane dove sono state riscontrate in regolarità nell'ambito del piano sperimentale varato lo scorso aprile dal Ministero del Lavoro e finalizzato all'automizzazione della vigilanza nel settore agricolo, in una provincia come quella di Rovigo dove i controlli tradizionali si sono a lungo rivelati non del tutto efficaci. La soluzione è stata trovata nell'analisi sinottica di tutte le informazioni riguardanti le singole aziende. È stata instilata una lista delle varie coltivazioni e della manodopera, necessaria nei vari periodi dell'anno. Incrociando i dati emergono le aziende che hanno assunto meno lavoratori di quanto richiederebbe la loro produzione e scatta così l'accertamento. Andiamo in provincia di Padova, adesso a Teolo, anche qui si parla di cronaca e di acqua di sorgente a quanto pare inquinata dopo quasi un millennio. Infatti la fonte d'acqua della bezzia di Praglia non è più bevibile. In questi giorni accanto a Rubinetto è stato affisso il cartello acqua non potabile. Una brutta sorpresa per i tanti estimatori dell'acqua di sorgente della Bazzia. Accanto a cartello c'è un foglio plastificato, contiene il testo del provvedimento che è stato preso dalla Ulse 16. Sono leggibili anche i risultati delle analisi effettuate su un campione d'acqua da parte dell'Arpav. È stata riscontrata quindi la presenza di batteri, hanno spiegato i monaci del monastero di Praglia, batteri che si sono probabilmente sviluppati a causa del fogliame finito nella sorgente. L'USL, visto l'esito dell'analisi dell'Arpav, ha deciso quindi di vietare temporaneamente l'utilizzo dell'acqua della fonte, l'acqua cristallina della Fontana della Madonna, comunemente chiamata anche Fontanini, che si trova appena dietro le mura vicinte dall'Abbazia Benedettina di Praglia, secondo alcune persone del posto, avrebbe anche proprietà curative quasi miracolose. Parliamo adesso invece della riforma, quella voluta da Renzi, insomma del referendum. Abbiamo sentito l'assessore Coletto che parla tra le varie riforme, anche appunto quella che gli interessa, poi legata anche alla sanità, arriva e dice il suo diniego a questo referendum, a questa riforma. La riforma costituzionale che siamo chiamati il 4 dicembre a votare, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista del Veneto, qual è la posizione che lei, anche a livello personale, ha rispetto alla riforma? Beh, io sono assolutamente contrario a questa riforma, è una riforma confusionaria anche per la sanità, perché fino adesso noi abbiamo avuto una sorta, anzi abbiamo avuto un federalismo sanitario dove le amministrazioni regionali hanno potuto gestire e programmare quella che è la sanità territoriale e del Veneto in generale. Noi sappiamo che il Veneto ha ragione benchmark, siamo in equilibrio di bilancio ormai da sei anni con l'amministrazione Zaia, abbiamo saputo gestire correttamente quelli che sono i fondi versati con le tasse dei nostri contribuenti. Se passasse questo referendum, tutta quanta quella che è la programmazione e la gestione della sanità sarebbe ricentralizzata con evidenti danni per quanto riguarda la gestione diretta e l'aderenza territoriale della sanità che ci sarebbero inevitabilmente. Quindi questa riforma, questo referendum va assolutamente contro quello che è il federalismo sanitario che tanto bene ha potuto fare al Veneto nell'ambito sanitario e non solo. E che nulla succederà per la Sicilia? Assolutamente, per le regioni a statuto autonomo non è previsto nessun taglio, non è prevista nessuna differenziazione, continueranno a fare programmazione sanitaria, continueranno a spendere i soldi dei contribuenti come meglio credono senza nessun tipo di controllo da parte del Governo centrale. Anche questa è una grossa differenza che la gente non è a conoscenza di queste differenziazioni. Eppure queste cose sono estremamente dannose per una sanità come il Veneto, per una sanità in equilibrio di bilancio. Qualche giorno fa addirittura siamo stati riconosciuti dall'Università Tor Vergata la migliore sanità a livello nazionale. Se passasse questo referendum inevitabilmente il livellamento sarebbe verso il basso e non sicuramente verso l'alto. Ora andiamo nel Polesine a Porto Viro per la precisione. Anche quest'anno il terminale di reglassificazione Adriatic a largo di Porto Levante partecipa al servizio di PIC Showing, una delle misure del piano di emergenza che è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico che sono necessarie proprio a far fronte ad eventuali situazioni sfavorevoli e a garantire dunque la sicurezza del sistema del gas nazionale nel periodo invernale. La necessità per il prossimo inverno è un quantitativo di gas naturale liquefatto compreso tra un minimo di 60.000 metri cubi e 70.000. Il Ministero dello Sviluppo Economico anche quest'anno ha scelto di avvalersi del reglassificatore per il servizio come misura del piano di emergenza al fine di fronteggiare nel periodo invernale particolari situazioni sfavorevoli e garantire la sicurezza del sistema del gas nazionale. Attraverso il servizio sarà reso disponibile nel primo trimestre del 2017 il gas precedentemente scaricato e poi stoccato nei sebatoi del terminale per rispondere dunque a eventuali richieste di punta del sistema. La scelta del MIS è effettuata per il terzo anno consecutivo da quindi conferma della valenza strategica di questa struttura che è stata posizionata a largo della costa portovirese per il sistema italiano del gas. Parliamo invece di un altro gas, ovvero dei PM10 che stanno sempre più inquinando le nostre città. Ne sa qualcosa Padova. Da lunedì infatti parte il blocco delle macchine non catalizzate. Sentiamo. Torna all'incubo PM10. Le centraline dell'Arpav hanno fatto registrare tre superamenti della soglia di attenzione a Padova negli ultimi giorni. Siamo arrivati così a ben 40 sforamenti dall'inizio del 2016 mentre il limite di legge è di 35 all'anno. Intanto da lunedì scatterà anche per questo inverno il blocco dei mezzi non catalizzati una misura di cui nessuno si accorge che il comune non fa rispettare. Bisogna fare di più accusa il portavoce delle gambiente Lucio Passi. A ottobre ben 16 giorni di pioggia hanno tenuto l'aria di Padova a sgombra dal PM10 ma ora le temute polveri sottili si riaffacciano. Il 29 ottobre la centralina Arpav alla Mandria ha registrato 66 microgrammi per metro cubo d'aria e il primo novembre 67. E poi è stato superato nuovamente il limite di 50 microgrammi solo mercoledì. Non è necessario ribadire che l'aria di Padova è inquinata ma Lega Ambiente sottolinea due dati. Il primo tra ozono e PM10 sono già 80 i giorni d'aria fuori legge dall'inizio dell'anno. Il secondo, da quanto ci sono i rivellamenti dell'Arpav, il PM10 ha superato la soglia annuale per 16 anni consecutivi e l'ozono consecutivamente per 13. È evidente che bisogna fare molto di più. Lunedì quindi scatta il blocco delle auto non catalizzate in una misura che colpisce circa 60.000 veicoli. Nulla cambia rispetto agli inverni scorsi. Il divieto vale per le auto diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2 e per le auto a benzina Euro 0 e Euro 1. A queste si aggiungono tutte le moto a due tempi immatricolate prima del 2000. Questi mezzi non possono circolare dalle lunedì al venerdì dalle 8.30 a mezzogiorno e dalle 15.30 alle 18 in tutto il territorio comunale. Lo stop partirà quindi lunedì e proseguirà fino al 16 dicembre per poi riprendere dopo le festività natalizie fino a metà aprile. La multa per chi sgarra è salata. Benne 163 Euro. Parliamo anche di vaccinazioni. È iniziata in questi giorni la distribuzione ai medici delle 33.000 dosi di vaccino anti-influenzale nel territorio della Ulse 15, Alta Padovana. Da lunedì prossimo sarà possibile rivolgersi dunque alle strutture sanitarie per la somministrazione da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei professionisti sanitari operanti nelle sedi pubbliche di vaccinazione e di quelli che operano all'interno delle strutture residenziali per gli anziani. Parliamo di città di Rovigo, una città che non è smart e a quanto pare nemmeno accogliente. Almeno così lo ribadiscono le classifiche. Rovigo, città poco smart. Il capoluogo polesano è il fanalino di coda del Veneto secondo la classifica I-City Rate 2016. L'indagine FPA prende in considerazione 106 comuni capoluogo, valutati in base a 105 indicatori statistici. Rovigo è tra le prime città per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, dove si piazza al nono posto rispetto al 51esimo dell'anno scorso, mentre per quanto riguarda la sicurezza e l'accoglienza, il capoluogo polesano sprofonda passando dal 27esimo al 44esimo posto per la prima categoria e dal 54esimo al 74 per la seconda. In generale Rovigo si piazza al 50esimo posto in classifica nazionale, mentre l'anno scorso era al 65esimo. Un balzo avanti che fa ben sperare, ma che non le consente di perdere il triste primato di fanalino di coda in Veneto. Prima di noi tutte le altre città capoluogo, terza Venezia, quinto Padova, 18esima Verona, 22esima Treviso, 34esima Vicenza e 48esimo Belluno. La sfera green è l'unica in cui Rovigo raggiunge ottimi risultati, mentre per le altre categorie le cose non vanno troppo bene. Per quanto riguarda la capacità di generare innovazione che sposti le economie territoriali, Rovigo è appena 61esima, nonostante un miglioramento di 16 posti rispetto allo scorso anno. Nella categoria della qualità della vita, tra welfare e servizi smart, siamo in 38esima posizione. La sostenibilità ambientale, come detto, è l'unica categoria al top. Il Ponesi ne passa dalla 51esima alla nona posizione nazionale. Con la mobilità ci dobbiamo accontentare però del 62esimo posto. C'è molta strada insomma da fare, anche per rendere Rovigo più accogliente, visto che secondo lo studio non è affatto una città multiculturale, né connessa, non ha un mercato del lavoro dinamico né privo di fattori di discriminazione, non riesce ad attrarre cervelli e peggio ancora con le popolazioni migranti. Parliamo di donne invece, quelle che sono state colpite da un cancro al seno, curate e guarite presso l'Istituto Oncologico del Veneto di Padova. Hanno trovato forza e hanno voglia di rimettersi in corsa, è proprio il caso di dirlo, e di provare muscoli e resistenza, la maratona più celebre al mondo, quella di New York. Questa è la storia delle donne di Run for Yove, il team che è stato creato all'interno dell'Istituto Oncologico del Veneto. Le maratonette si sono date appuntamento proprio allo Yove di Padova, accompagnate da parenti e amici, sono pronte per salire sull'aereo che le porterà a New York. Correranno dunque alla maratona il prossimo 6 novembre. Le runners di Run for Yove sono 11 donne che hanno sconfitto proprio il cancro al seno. Sono curate e seguite dai specialisti dell'Istituto Oncologico Veneto. Bocca al lupo e complimenti. Adesso invece andiamo a scoprire le previsioni meteo per questo weekend. Previsioni per il 6 novembre 2016. Forti venti di Libeccio, mal tempo diffuso al centro e al nord-est altrove sarà più soleggiato. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord migliora al nord-ovest con più spazi soleggiati. Pioggia e qualche temporale invece al nord-est ma con fenomeni in diminuzione. Neve in calo al nord-est fin sopra i 500 metri in serata. Al centro inizialmente condizioni di maltempo diffuso su tutte le aree appenniniche tra Umbria, Marche, Lazio e Toscana e con possibili temporali e nubi fragili. Mal tempo anche sul resto della Toscana. Più asciutto in Abruzzo e Molise neve a 1600 metri. Temporali sparsi anche in Sardegna. Migliora entrosera o un po' ovunque. Al sud cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni ma tende a peggiorare in Campania con l'arrivo di temporali. I venti saranno forti di Libeccio su tutti i bacini. Temperature minime in aumento al centro-sud, valori compresi tra 4 e 19 gradi su tutte le nostre regioni. Di giorno prevediamo 12-16 gradi al nord, 14-20 gradi al centro e fino a 25-26 gradi al sud. Carissimi, ilmeteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook così da essere sempre informati sulle nostre news. Arrivederci. Grazie agli esperti del meteo. Noi ci fermiamo qui con il telegiornale di Padova e Rovigo di Prima Free. Vi ringrazio per averci scelti, vi auguro un buon proseguimento di weekend. Ci ritroviamo come sempre nelle prossime edizioni. Rimanete con noi e a risentirci.